Non ha voluto mangiare né bevere. Ma poi non lo mantiene. Non l'ha mantenuto perché... Cioè io non l'ho mantenuto perché mi trovo in una situazione che non posso mangiare. E allora... Ti assicuro, Giacomo... Giacomo, una tua dichiarazione. Sai perché... Giacomo... La tua dichiarazione... La mia dichiarazione... La mia dichiarazione è questa. La mia dichiarazione è questa. Che in una gara la viva. Ah, io te lo auguro. No, no... Registrata... Registrata... Ma tu, dal tuo gennaio... E lei che il 2 gennaio... Farà la dieta? E lei... Giacomo... Potremmo metterlo un po' scommesso. Farà la dieta sì o no? La forza nella mia testa io ce l'ho. Non ce l'ho nella mia testa. La forza ne l'ha anche. Vincere una gara. Vincere una gara. Vincere una gara. Come la canzone? Vincere una gara. Vincere una gara. Vincere una gara. Non sono 200 cristiani. No, poi... Io lo so. Non lo so. Giacomo... Giacomo, tu la vincerai questa gara. Non è che si è fatto un via. Si è fatto un via. Si è fatto un via. Per l'asma. Ma è com'è? Vincere una gara. E' un ufficiale. E' registrato. Abbiamo le quote. Campacavallo. Come campacavallo. Come campacavallo. Come campacavallo. Il mio palettone. Il mio palettone. Il mio palettone. Il mio palettone. Ma questo palettone. Che non c'è il palettone. C'è il decreto. C'è il decreto. C'è il decreto.